la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it amici di uno tv buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 3 gennaio 2015 una rassegna stampa quella odierna che oltre alle prime pagine ci porterà anche nello sport visto che da questo fine settimana iniziano di nuovo i campionati direttantistici oltre che riparte anche martedì la serie A di calcio ma andiamo con ordine e partiamo subito da leggere la prima pagina del mattino di Napoli un mattino di Napoli che quest'oggi eh titola e centra il la sua prima parte principale appunto sulla questione assenteissi nel periodo eh e nella notte di eh capodanno un assenteismo che ha del record eh come titola il quotidiano napoletano e lo vediamo proprio qui eh assenteismo il record degli statali boom di certificati medici più il ventuno per cento rispetto ai privati Renzi cambiamo le regole le inchieste del mattino buffera sui vigili di Roma e sui netturbini di Napoli la CGL si smarca via chi imbroglia eh di spalla in invece vediamo eh le interviste del mattino Caldoro un decreto per rilanciare Pompei e Napoli Est mentre vediamo il presidente Caldoro dice chiedo al governo di varare norme ad hoc per Pompei e Napoli Est sul modello di quanto già fatto per Bagnoli lo afferma lo mattino il governatore Caldoro che su Bagnoli è polemico basta ritardi sul commissario e eh sulla terra dei fuochi si attende da Roma più fondi per le eh bonifiche sempre la polemica scavi il ministro sbaglia vanno sempre aperti forse eh mal consigliato da qualche consulente del ministro Dario Franceschini si è esercitato in una difesa d'ufficio della decisione di chiudere gli scavi di Pompei a Natale e Capodanno utilizzando in modo improprio eh dei paragoni internazionali cambiamo versante del giornale leggiamo invece l'analisi fatta da Oscar Giannino il Jobs Act eh vale per tutti eh questa l'analisi di Oscar Giannino sembra fatta apposta per ehm rilanciare l'illogicità del nuovo eh Jobs Act che vale solo per i lavoratori privati e non per il pubblico l'assenza del del 83,5% dei vicini urbani previsti in servizio a Roma la notte di San Silvestro con 600.000 persone per le strade della capitale e quella dei duecento dei turbini che dovevano prestare servizio a Napoli a Capodanno le amministrazioni locali hanno reagito diversamente lancia in lancia in resta contro l'assenteismo il sindaco di Roma mentre innanzitutto il comandante della polizia municipale Raffaele Clemente mentre a Napoli il vice sindaco Sodano ha preferito parlare di dato fisiologico stante che l'età media dei dipendenti della municipalizzata è più vicino ai 60 che ai 50 anni eh leggiamo anche a centro pagina eh quello che emerge eh nel pubblico si può licenziare basta voler applicare le leggi sono le parole del manager Fortini c'è anche il punto di Vespa se in un mese solo l'Italia si gioca tutto lo stato d'animo degli italiani questo inizio d'anno assomiglia a quello dei marinai eh di Colombo se al navigatore può paragonarsi il nostro premio dall'inizio del viaggio i marinai credettero in lui ma cominciarono ai nervosissi quando dopo un mese non si voleva non si vedeva l'ombra di una striscia di terra ci fu anche un principio di ammunitinamento che in un parallelo con il regime democratico può sostanziarsi nel rifiuto delle urne clavoroso quello dell'Emilia o nell'antipolitica anti-europoista Salvini e non solo scendiamo più in basso e parliamo di cronaca strage in mare il vice di procida sotto inchiesta il primo ufficiale Jovine ho rischiato la vita per salvare tutti ora sono distrutto ehm i PM nella stiva non più di 15 eh dispersi Luigi Jovine primo ufficiale di coperta della Norman Atlantic eh e tra i quattro nuovi indagati nell'inchiesta della magistratura barese Saul Naufrage della Norman Atlantic insieme anche a Francesco Romano siciliano di 56 anni secondo ufficiale di eh macchina scendiamo in basso nella prima pagina del mattino e eh perché la sfortuna non causa i tumori studio USA fa eh discutere il 66% delle malattie non è eh dovuto agli stili eh di vita dall'altro lato invece vediamo Cuomo il salernitano della Grande Mera il primo governatore italo-americano di New York morto ad 82 anni infine a centropagine vediamo la foto di Higuain con la Supercoppa Supercoppa Show il grande cuore del San Paolo l'evento delirio a fuoriglotta in 25.000 per l'allenamento a porte aperte emozioni che hanno sempre il loro perché ieri mattina il Napoli ne ha fatto una scorpacciata l'emozione per uno stadio gremito di tifosi e pressione e passione come mai quest'anno né in Europa League neppure in campionato in 25.000 forse di più per una Supercoppa che ritorna dopo 24 anni tante famiglie fiume di bambini con la sciarpa azzurra Benitez fantastico iniziare così il nuovo anno contro campo quei tifosi sono da scudetto e l'editoriale di Maurizio De Giovanni si chiude così la prima pagina del mattino di Napoli andiamo a vedere anche la pagina dedicata alla città di Salerno con in primo piano la vicenda dell'asle 200 posti letto in più chiude Castiglione di Ravello scafati salva lo scarlato a liberti bocciato squillante pronta la revisione del decreto 49 Agropoli non riapre Alfieri attacca rappresaglia elettorale intanto sulla vicenda delle primarie interviene anche il presidente Caldoro preoccupante e paradossale mentre di spalla leggiamo la sfida del 2015 e l'ottimismo della volontà mentre dall'altro lato leggiamo la politica sfiduciato deboli melchionda vince il consorzio delle farmacie a centropagina invece la cronaca baby gang assalto ai bus con petardi ride sul pullman cstp tra battipaglie e bellizi ventenne rischia una lesione al timpano infine la riflessione del luca grillo e il gioco del potere c'è anche spazio per la pagina interna dedicata al vallo di diano con la questione di sapri del centro operativo che di fatti porterà a nuovi cambiamenti centro operativo addio treni teleguidati da roma la spending review falcidia anche i dipendenti delle ferrovie chiude il dco il dirigente centrale operativo che dagli anni 90 gestisce la circolazione ferroviaria sui 200 chilometri della linea compresa tra battipaglia e paola la rete ferroviaria italiana nella riorganizzazione dei suoi servizi ha previsto una serie di tagli e fra questi c'è anche la soppressione del dco saprese che dovrà finire e lo leggiamo sotto la gestione telecomandata di roma a breve inizierà una fase di prova sono infatti iniziati i lavori per la posa dei cavi necessari per consentire la teleguida della capitale a partire dalla prossima primavera se la verifica andrà a buon fine dall'ottobre del 2015 il dco di sapri sarà dismesso verso la chiusura anche il dirigente centrale operativo di lamezia e a seguire quello di reggio calabia il piano di rete ferrovie dello stato italiane e di controllare da roma e forse anche da napoli la circolazione del centro sud italia continuiamo sempre a leggere la parte relativa al valo di diano e ci spostiamo a sassano battaglia sull'ecomostro pellegrino fa ricorso l'ecomostro di sassano di nuovo al centro dell'attenzione il comune ha presentato ricorso al consiglio di stato contro la sentenza dell'altarra a favore della ditta di lei che per aver vinto che aveva vinto appunto l'appalto l'ecomostro la struttura che dovrà ospitare la casa comunale dopo l'abbattimento di una parte di esse in seguito ai lavori di adeguamento l'amministrazione di sassano ha sostituito la ditta che aveva vinto l'appalto in corso d'opera quest'ultima la giordano srl di salerno però ha presentato ricorso al tar che ha emesso sentenza favorevole alla società salernitana sentenza che non ha convinto la giunta sassanese che si è rivolta così al consiglio di stato l'ecomostro sarà sicuramente argomento della prossima campagna elettorale con la pagina interna del mattino chiudiamo la parte dedicata proprio al mattino di napoli e andiamo a leggere invece la prima pagina della città di salerno che parte ed apre con la richiesta del casino sociale causa da 10 milioni gli ex soci dell'antica casina dei mobili fanno ricorso chiedono l'isarcimento al comune di salerno i ricorrenti accusano e presentano il conto per i lavori di ristrutturazione fatti negli anni intanto a centro pagina la foto e l'addio il saluto a mario cuomo il sogno americano di un salernitano è morto a new york l'ex governatore mario cuomo aveva 82 anni ed era figlio di salernitani il ricordo dei parenti da sergio cuomo presidente della nazionale di mentoring usa italia a vito e giuseppe le cugine i parenti della delle due nocela grande maestro di umiltà intanto leggiamo corruzione e male corruzione vero male italiano la frustata arriva più o meno a metà del messaggio di fine anno ma probabilmente ne costituisce il cuore il contenuto più profondo il tono infatti è drammatico l'aggettivazione insolitamente feroce dobbiamo bonificare il sottosuolo marcio e corrosivo della nostra società napolitano e la politica campana il presidente sta concludendo la sua esperienza istituzionale con una dimostrazione di stile responsabilità politica assoluta il percorso non è ancora completato ma gli italiani hanno ben compreso le valutazioni politiche e morali della decisione del capo dello stato dall'altro lato invece andiamo in cronaca salerno fredde guasti e niente mezzi città tra i rifiuti lucida artista traffico in tilt e code ovunque ritorna il caos andiamo a centropagina sita aumentano gli abbonamenti sita abbonamenti più cari aumenti del 10 per cento per cento pendolari furiosi per i prezzi delle autolinee private centrale del latte si insedia mastolia oggi sarà in azienda arte menna nel presepio di mario di mario carotenuto mentre leggiamo san severino riapre alle auto la provinciale e piovono le prime accuse e infine lo sport salernitano arriva a bocchetti il difensore della paganese in pressito al club granata mentre a napoli ieri erano in 25 mila a san paolo per la festa della supercoppa e infine cavese la carica di allegretta dobbiamo riscattarci questa la prima pagina della città di salerno continuiamo nella nostra lettura andando ad aprire invece la prima pagina di cronache del salernitano che apre con un titolo dedicato a mario cuomo addio governatore è morto mario cuomo il ricordo del nipote sergio fece ricostruire le scuole aveva radici salernitane la madre era nativa di tramontia aveva 82 anni e proprio ieri il figlio aveva giurato per il secondo mandato intanto torquato vicini alla signora matilda cuofano tutto ciò tutto cominciò nel rione pareti a centro pagina vediamo flop dei mercatini a salerno sul lungomare calo di vendite del 50 per cento rispetto all'anno scorso insieme a salerno stalking e lesioni un anno e sei mesi ad andrea ingenito attio del luca nominato commissario non solo salerno ma anche dei comuni che sono inadempienti mentre leggiamo ancora in centro pagina i sindaci di scafatio di capaccio fanno un piacere al pd schiaffo di aliberti a forza italia mercionda a a capo delle farmacie eboli rapine quattro anni a ciardo mentre a casetta san giorgio violento la moglie quattro anni ad una guardia giurata e infine l'angolo dello sport fabiani tratta donna rumma castiglia in cambio di orlando potrebbe essere una rumma la carta sorpresa a sorpresa per la difesa della salernitana mentre fabiani offre castiglia al messina per orlando non di mendicino non di mendicino invece al lanciano questa è la prima pagina di cronache del salernitano ma vediamo anche come titola invece l'edizione salernitana di metropolis che apre con la cronaca una cronaca che ci porta subito a salerno schiaffi e pugni alla fidanzata amore ti prego fermati la compagna lo implorava ma lui continuava a picchiarla shock in via velia a salerno botte minacce all'uomo intervenuto in aiuto della ragazza intanto un racconto shock una notte di follia e l'alba di capodanno in una salerno ancora viva sveglia ma ormai poco festante nelle discoteche suonano le ultime note i locali presi d'assalto per il veglione sono invece ormai semi deserti sfollata la gente restano solo titolari dipendenti per le pulizie finali lungo via velia il silenzio delle quattro del mattino è rotto squarciato stonato da gride disperate fermati amore fermati aiuto la furia di un giovane sull'orro di una crisi di nervi per cause ancora oscure chissà per anche per essersi concesso qualche brindisi di troppo a cavallo della mezzanotte si abbatte sulla malcapitata fidanzata schiaffi spintoni e poi botte minacce nei confronti dell'uomo intervenuto per salvare appunto la ragazza intanto a scafati concerto di denga in ottomila fanno festa nella cittadina saleritiana mentre sembra salerno il boss panella chiede di ritornare in libertà troppi manager scontro tra comune e sindacati a battipaglia petardo contro un bus ferita una ragazza scafati invece piano di zona denuncia della cgl la selezione è anomale sempre a scafati sentenze san pietro il pd attacca liberti per coprire l'errore cambia strategia il suo silenzio sarebbe stato dignitoso scendiamo ancora più in basso e leggiamo invece cosa è accaduto a capaccio centrale biomasse contestata arriva lo stop dalla regione a pagani invece donato e nuova multiservice pronta mozione di sfiducia vediamo poi scendiamo in basso la parte dedicata allo sport di metropolis l'ex cambilongo sfida la salernitana pienone a caserta in lega pro mercato il difensore bocchetti della paganese granata mentre in serie di per la battipaiesi inizia l'era pirone mentre agropoli e cavese si rinforzano con questa pagina di metropolis si chiude la prima parte del nostro della nostra assegna stampa ci vediamo nella seconda parte per parlare di sport e anche per dare le ultime notizie per quello che riguarda gli eventi della cronaca locale seconda parte della rassegna stampa di questo sabato 3 gennaio e riapriamo leggendo rapidamente le pagine interne di cronaca del salernitano prima di tuffarci nello sport e leggere quello che accadrà in questo weekend di campionato seconda parte che la apriamo con leggere l'allarme del pd a polla un allarme con i tesserati e lo leggiamo che scappano una vera e propria emorragia di tesserati nel pd di polla lo scorso anno gli iscritti furono 125 quest'anno hanno prenotato per il rinnovo dell'iscrizione solamente in 57 la protesta contro la segreteria provinciale accusata di aver abbandonato il vallo di diano e inizio d'anno col botto in casa del partito democratico di polla da alcuni giorni una vera e propria guerra interna sta allogorando gli animi di quanto hanno a cuore le sorti del più grande partito italiano un vero e proprio ciclone si è abbattuto nel circolo cittadino del pd di polla dove a fronte dei 125 tesserati registrati lo scorso anno solo in 57 hanno rinnovato la fedeltà al partito di Matteo Renzi insomma gli iscritti storici hanno alzato baniera bianca probabilmente in segno di protesta contro la direzione provinciale del partito democratico per essere stati lasciati solo a gestire la fase legata alle scorse elezioni amministrative tra i pochissimi della cosiddetta vecchia guardia ad aver voluto rinnovare la tessera è stata clodino russola maggioranza relativa è andata alla corrente di raffaella ippolito che ha avuto la meglio su quella legata vanni ritorto e sebastiano tanzola sei invece i voti liberi che non si identificano nelle tre correnti fissato intanto a subito dopo queste festività natalizie il congresso che sancirà il nuovo corso del pd di polla quello che è certo dice raffaella ippolito e che il nuovo direttivo del pd di polla sarà rappresentato da tutte le correnti e soprattutto da giovani per quanto riguarda l'elezione del segretario come riporta siti locali invece sarà l'assemblea degli iscritti ad individuare la figura che dovrà sostituire nella carica appunto clodin russola intanto slittano all'uno febbraio le primarie del centro sinistra per la scelta del candidato governatore in lizza alle prossime regionale mentre l'open day dei circoli pd si svolgerà l'undici gennaio giorno in cui si terrà anche una assemblea dei segretari dei circoli campani con la partecipazione della sottosegretaria alla presidenza del consiglio graziano del rio e del ministro per gli affari regionali maria carmela lanzetta andiamo invece a centro pagina leggiamo l'allarme lanciato dai commercianti del vallo di dianeo è un allarme i saldi dicono non garantiscono affluenza nei negozi a sala consiglini i primi dati indicano scassa presenza di clienti negli esercizi commerciali partito ufficialmente la stagione dei saldi 2015 ma nel vallo di diano la calca non arriva anzi scarse le affluenze dei negozi e in alcuni casi non si è visto praticamente nessuno in momenti di estrema variabilità ed incertezza economica la gente preferisce tenersi i soldini nel portafoglio cambiamo argomento il fatto contro lo sblocca italia arriva l'assemblea a montesano scalo anche in questo 2015 appena iniziato il vallo di diano si conferma protagonista nella lotta contro il decreto sblocca italia in particolare di quello che riguarda la semplificazione delle procedure per i sondaggi e le estrazioni petrolifere oltre al presidio permanente in corso adatta una lucana scalo e alle manifestazioni di sensibilizzazione organizzata dal comitato no petrolio il prossimo 18 gennaio montesano scalo è in programma a partita delle ore 10 30 la seconda assemblea del centro sud contro lo sblocca italia la grande partecipazione riscontrata alle manifestazioni di questi mesi contro il decreto soprannominato sblocca trivelle come quelle svolte sia a napoli a potenza testimonia una forte opposizione popolare alle politiche ambientali e sociali del governo renzi lo scorso 7 dicembre inoltre si è tenuta la prima assemblea delle realtà di base del centro sud contro lo sblocca italia che ha espresso l'esigenza di coordinare le azioni di lotta e lanciare una grande mobilitazione nazionale contro il decreto il raggiungimento e dunque la costruzione di questo obiettivo saranno all'ordine del giorno dell'assemblea appunto del prossimo 18 gennaio a montesano con la lettura della pagina interna di crona che si chiude la pagina dedicata appunto alla cronaca locale e apriamo adesso la pagina sportiva partendo proprio dal leggere e quello che titola la parte sportiva quindi il mattino sport che apre riportando e dicendoci quando è accaduto ieri a napoli ovvero la festa di oltre 25 mila tifosi che hanno potuto assistere all'allenamento a porta aperte detendosi al san paolo in fuorigrotta sogno scudetto noi ci sentiamo maturi ma la città faccia squadra sono le parole di maurizio marinella e anche del presidente dell'aurentis manca una rete una rete che si costruisca un brand come accade a firenze inoltre ci arrivano anche i commenti importanti di patrizio oliva si ricordi la c dove tutto cominciato cresciamo insieme biaggio iccio la squadra non è matura troppo distante come da juve rom mentre per edoardo sabatino non si dia la colpa agli altri la verità è che non vedo il progetto queste le parole che di diverse personalità illustri ma anche le critiche di de laurentis dividono i sostenitori azzurri il sindaco invece dice napoli è pronta tricolore quella parola che va evitata l'editoriale di pietro gargano mentre in basso leggiamo al san paolo i tifosi si proviamo ad essere costanti carrellata di pareri durante l'allenamento a porta aperte e la festa per la supercoppa la speranza maturità e anche un impianto più fruibile per le famiglie chiedono i tifosi partenopei sempre in merito si fa una ampia analisi di quella che è la situazione del napoli dallo stadio al mercato fa discutere il napoli secondo aurelio de laurentis leggiamo soltanto alcuni estratti gli acquisti la difesa è da rafforzare con campioni di prima fascia il tecnico comunque vada benite sarà un padre co fondatore mentre leggiamo in alto lo stadio la squadra sarà grande solo con il san paolo rinnovato il fatturato il club dei 150 mila tifosi una idea tutta da definire intanto comincia ad illuminarsi il calciomercato dopo l'arrivo di cerci al milan l'inter batte il colpo podoschi preso dall'arsenal piazza il primo colpo importante di mercato nel mercato appunto di riparazione è arrivato lucas podoschi trovato l'accordo con l'arsenal a prestito oneroso a fronte di un pagamento di circa 600 mila euro che però potrebbe salire a seconda del piazzamento dell'inter a fine stagione intanto in serie b il catania volta pagina dopo sannino e pellegrino arriva marcolin già ex di mancini ed è questo quello che riguarda il mercato della serie a adesso però lasciamo la pagina dedicata al napoli e vediamo come cosa succede cosa è possibile che potrà succedere alla salernitana nei prossimi giorni una salernitana che sarà impegnata nel derby contro la casertana e leggiamo dalle pagine di metropolis un campilongo tecnico della casertana che sfida la sua squadra campilongo sfida la salernitana il tecnico rosso blu senza paura la casertana gioca all'attacco i granati sono i granati sono una corazzata noi abbiamo in intensità e coraggio intanto dal mercato arrivano le prime mosse del direttore fabiani ecco bocchetti accordo tra fabiano e fabiani e deboli il difensore passa al lippocampo altro che mercato in stand by arriva all'ufficializzazione non c'è stata ma arriverà tra qualche giorno ma da ieri antonio bocchetti è virtualmente un calcettore della salernitana il difensore della paganese dovrebbe aggregarsi al gruppo di lavoro di leonardo menichini la prossima settimana alla riapertura delle liste previste appunto per il giorno 5 di gennaio intanto inizia la prevendita per la sfida la casertana già 4.200 ticket staccati a salerno 200 mentre per quanto riguarda proprio la squadra e la leggiamo difesa 4 menichini la prova porte chiuse al volpe come di consueto e anche qualche nuovo striscione pubblicitario per tenersi quando più lontano possibile da occhi indiscreti la salernitana prepara il derby di martedì contro la casertana cercando di nascondere le proprie soluzioni di sicuro però per sopperire alle assenze in difesa di trevisanne colombo menichini sta votando la possibilità di tornare alla retroguardia a 4 adattando tuia a terzino adesso inserendo bianchi al centro in coppia con lanzaro oggi alle 14.30 nuova seduta al volpe la storia di casertana salernitana gemellaggio di spade altro che campanilismo calcistico nella scherma giannone e nedonadi sono appunto sorelle andiamo avanti per quanto riguarda la salernitana e tutto le c'è soltanto l'intervista di cronache fatta al doppio ex varrella che dice ti ferò la salernitana guidaci ancora ago domani la presentazione intanto del libro per quanto riguarda invece la squadra vera e propria in attacco l'unico dubbio resta gabionetta che è favorito su mendicino menichini cambia modulo si torna a 4 per rulli l'ex lupa roma va verso l'esordio mentre come dicevamo prima varrella l'ex tecnico romagnolo ex di casertana la casertana nell'ultimo derby giocato nel 92 93 la mia sostanza al gol di fermarelli fermanelli fui frainteso mercato in fermento sempre in casa granata no di mendicino a lanciano donna roma invece si avvicina alla compagine granata dicevamo della prevendita in vista della trasferta di caserta ci sono alcune diciamo incongruenze tra diversi quotidiani si parlava di 200 ieri sera addirittura 300 i biglietti staccati questo è quanto per quanto riguarda la salernitana adesso apriamo invece la pagina dedicata al calcio dilettantistico quest'oggi si gioca si torna a giocare in eccellenza promozione ma anche prima e seconda categoria e in parte anche nella terza categoria c'era tanta attesa dopo pochi giorni di di pausa circa 15 giorni le squadre molte hanno lavorato hanno fatto il consueto di chiamo di preparazione per mettere di fatti benzina in cascina prima di dare lo sprint finale per questa seconda parte della stagione oggi riparte il campionato di eccellenza e promozione leggiamo tra grazie all'aiuto di cronache quelli che sono gli anticipi in programma in questa terza giornata ad esempio nel girone B che comprende il valdiano oggi si giocano il derby tra real vico e santagnello mentre domani tutto il resto del programma prima di ritorno invece nel girone di due gli anticipi reala versana giffonese e temeraria calpazio domani santa maria real bellizi posee non real agropoli olimpic salerno e bolitana piccola volceiro che se rea stella e sassano inter casali mentre oggi si gioca anche nel campionato di prima categoria nel girone G c'è vignale santa cecilia e domani invece il resto del programma oggi anche come detto la le partite di seconda categoria per quanto riguarda sempre il camionato di eccellenza però e ci trasferiamo nuovamente sulle pagine di metropolis scoppia un caso in casa gragnano e lo leggiamo proprio qui grana per il gragnano il difensore gargiulo ormai è un caso salta gli allenamenti pur senza accusare problemi fisici arriva il diritto di trasferte intanto per Ponte Gagnano stop per Coppola le ultime notizie che arrivano da Andrea Ripa per quanto riguarda la città di Gagnano e quindi la capolista del girone B la partita contro il Real Ponte Gagnano è alle porte ma per la capolista è tutt'altro che una preparazione tranquilla la sfida contro la formazione salernitana non è tra le più ostiche in programma ma Maurizio Coppola non può permettersi passi falsi perché il Sant'Agnello è a due punti di distanza e la Scafatese addirittura a tre un'ultima grana in casa giallo blu e la quella relativa al caso di gargiulo spuntato proprio in questi giorni il difensore da giorni sta saltando il regolare svolgimento degli allenamenti in vista proprio della gara contro la formazione picentina un'assenza ingiustificata dal momento che il difensore ex Sorrento e Vico non ha accusato problemi fisici particolari in questi giorni gargiulo dunque sembra essere sparito lasciando i compagni senza troppe spiegazioni un atteggiamento che il presidente Minopoli dovrà tenere in considerazione nei prossimi giorni quando il calciatore si spera si rappresenterà al campo per gli allenamenti intanto per la partita contro il Real a Ponte Cagnano appare scontata una sua esclusione dal gruppo dei calciatori titolari anche se Coppola in questi giorni ha abituato tutti a scelte clamorose e molte discutibili per quanto riguarda la gestione del gruppo intanto oggi e qui lo leggiamo c'è il derby tra Real Vico e Sant'Agnello due anticipi per rompere il ghiaccio e tuffarsi in un campionato che si pronuncia vincente questo pomeriggio scatteranno le gare della 2015 nel campionato di eccellenza in attesa del piatto forte previsto per la giornata di domani nella girone B torna in campo il Real Vico gli uomini di macera si affidano alle reti del solito bomber Balzano per scartinare la difesa del Sant'Agnello un derby ad alta quota quello che andrà in scena al Massacuano con gli uomini di Turi che cercheranno di continuare il momento positivo di piazzarsi in vetta in attesa del match che vedrà il Gragnano impegnato domani in casa del Real Ponte Cagnano intanto diciamo che iniziano con questa partita una sfida di cartello inizia questo nuovo anno questo nuovo turno di campionato quindi quale partita migliore per rompere il ghiaccio di fatti con la notizia relativa alla partita di oggi tra Gragnano tra Real Vico e Sant'Agnello si chiude la nostra assegna stampa ricordando che nei prossimi notiziari avremo ulteriori approfondimenti sulle squadre del Vallo di Diano per tutti gli altri approfondimenti vi rimando al nostro sito internet ma anche alle nostre pagine facebook e ai nostri contatti per il momento è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata